Ragazzi miei, la vedete alla cribuccia che scende per il gol di Ranocchia? Cioè, mamma mia, no ragazzi non potete capire quanto ho esultato quando ha segnato Ranocchia quel gol, fantastico, e vabbè, per chi lo segue in under23 è un gol normale alla Ranocchia, nel senso lui fa sempre questi gol quando li fa, quindi è, però veramente sono contentissima, un giocatore sottovalutatissimo, che è sempre stato messo in ombra da altri perché, cioè diciamo altri, se ne è sempre parlato di più, e quindi vabbè, per chi volesse io a metà stagione avevo fatto un video presentandovelo, Ranocchia ve lo metto nel commento fissato in alto, in descrizione, se ve lo siete persi andate pure, e sono contentissima, questo trofeo l'hanno praticamente vinto i giovani ragazzi, perché abbiamo concluso, abbiamo concluso la gara che in campo della prima squadra avevamo solo Rugani, cioè Rugani, ed era da un bel po' anche che giocavamo con Descigno, il più forte era Kuluseski, ecco, da un bel po', cioè dal secondo tempo in poi il più forte in campo era Kuluseski, punto, era Biu, dai, sono contenta, Kuluseski tra l'altro che ha fatto il secondo gol, adesso stanno facendo la premiazione, andrò a vedermela, sono contentissima, poi ho rivisto Miretti, sono contentissima, cioè sono contenta di vedere sia Primavera che Under 23, perché appunto Miretti, Sule, questi due sono della Primavera, mentre gli altri sono dell'Under 23, The Winter anche della Primavera, mentre gli altri sono Under 23 ed è bello vederli misti, guarda come sono contenti i giovani di sollevare la coppa, vabbè, ecco dai, sono contentissima. Allora ragazzi, sempre fino alla fine Forza Juve, non posso analizzare più di tanto, mi hanno detto che Cesny ha fatto una parata al primo minuto, ma io stavo finendo di vedere la Juventus Women, quindi non l'ho vista, e poi nulla, dai, manchiamo un po' in avanti, ma va bene ragazzi, sempre fino alla fine Forza Juve, ci vediamo domani, penso, dopo domani, ciao ragazzi.